Buongiorno e bentornati a The Icons, la rubrica sulle fotografie più iconiche della storia. Io sono Francesco Amorosino e oggi vi parlerò di una fotografa veramente, veramente speciale. Il suo nome è Sally Mann, è una fotografa incredibilmente poetica. Nelle sue foto, le sue foto trasudano di poesia, di atmosfera, di una sottile bellezza che a volte si mischia anche con un'inquietudine, perché comunque la poesia è sempre lì, è sempre sospesa tra la bellezza e l'oscurità, tra la luce e l'oscurità, e così sono anche le sue fotografie. Anche quando racconta delle cose molto pesanti, molto difficili da raccontare, comunque lo fa con estrema poesia, estrema delicatezza e sensibilità, e questo la rende davvero un'autrice straordinaria. Ho scelto quattro fotografie da mostrarvi che fanno parte di quattro progetti fotografici diversi e quattro momenti diversi anche della sua vita. Se voi andrete sul suo sito internet, ne potrete vedere molte altre, di molti altri progetti, anche alcuni che ho escluso da questa presentazione, e potrete vedere come in tutte le cose che le fa, anche in quelle più intime, ma anche in quelle più forti, veramente c'è questa poesia di cui stavo parlando. Ma cominciamo subito con le foto di oggi, così vi presento questa autrice, sono sicuro che vi innamorerete anche voi di lei. La prima foto fa parte del suo periodo iniziale, tra le sue prime immagini, ed è una foto quasi astratta, possiamo dire, ci sono pochissimi elementi, elementi molto semplici, eppure è una composizione super misurata, precisissima, veramente in cui ogni cosa è talmente lì al punto giusto, da vibrare con un'energia, in tutte queste linee e queste forme che si vengono a creare. E' un'immagine in cui vediamo questo braccio, anzi ne vediamo una parte di questo braccio, intuiamo che sia un braccio perché sappiamo che lo è, ma non ne siamo sicuri, potrebbe essere qualcos'altro. E vediamo questo telo sullo sfondo, questo filo, che sembra quasi un filo di erba, qualcosa di naturale comunque. Questo telo a me sembra quasi un mare, sembra quasi un'onda del mare, una spiaggia, cioè è un'immagine che fa veramente immaginare, evoca moltissimo, non è quello che sembra, fa venire in mente tante altre cose, e questo la rende veramente molto bella, molto potente. Anche tutte le foto, diciamo, di questo suo primo periodo hanno questa sorta di evocazione, quindi un misto tra qualcosa di reale e qualcosa di immaginifico, quindi a cavallo tra due cose un po' diverse, quindi cercare di mettere insieme cose diverse che rendono il tutto molto molto poetico. La seconda foto che ho scelto fa parte della serie di lavori più conosciuti di Sally Man, quelli con cui è diventata più famosa, ma anche quelli che hanno causato un po' di polemiche. Sono foto che parlano della sua famiglia, quindi sono foto dei suoi figli, della loro casa in campagna, e hanno scatenato un po' di polemiche quando sono uscite queste foto perché in molte delle fotografie i suoi bambini sono nudi e questo ha, insomma, è stata molto criticata dicendo che lei stava sfruttando il corpo dei suoi bambini che li ha costretti a posare nudi per lei. In realtà nulla di tutto ciò, perché era proprio il suo modo di vivere, il loro modo di vivere è quello di, d'estate, comunque stare nudi, fare il bagno nudi nel lago, nel fiume che c'era vicino casa, giocare comunque nudi, era una loro filosofia, un modo di vivere. E lei l'ha voluto comunque raccontare, rappresentare, proprio per far vedere che c'è questa possibilità, che la nudità non deve essere per forza un tabù. Però ovviamente persone che invece hanno un modo di vivere diverso hanno trovato quasi offensive queste fotografie. Invece poi anche i suoi figli, intervistati anche poi da grandi, insomma hanno sempre ribadito come loro non sono mai stati forzati a fare nulla. Quindi una volta che ci siamo liberati di questo preconcetto possiamo guardare le sue foto veramente con occhi nuovi e vederne la bellezza, la poesia e la forza. A me piace particolarmente questo scatto di questa bambina su questo tavolo che in sospesa sta ballando, sembra una ballerina di danza classica, quasi un cigno bianco illuminata dalla luce, mentre poi nell'oscurità c'è queste altre persone, questa bambina e questo adulto, che guardano un po' stupiti questa scena, un'apparizione quasi angelica. E quindi c'è anche questo incredibile contrasto tra l'ombra e la luce, tra la libertà forse, potremmo dire, la libertà di esprimersi, invece chi invece sta un po' più sulle sue, chi invece è più legato a qualcosa di più comune. E poi l'altra cosa che a me ha sempre colpito di questa foto, quel punto in più, sono questa frutta sul tavolo, queste mele che sono lì così delicate, sembrano quasi uno still life, una natura morta, è un dettaglio che secondo me arricchisce molto la scena e dà molta forza. La terza foto che ho scelto fa parte di un lavoro ancora più recente di Sally Mann, è un lavoro di paesaggio che lei ha intrapreso nei luoghi del sud, del sud degli Stati Uniti. Ho scelto questa foto perché, come ormai avrete capito, ho una predilezione per le foto molto evocative, molto misteriose, e quando ho visto questa foto ha avuto proprio un effetto wow, che foto incredibile, che atmosfera, che sensazioni. Questa luce, questo globo di luce che è difficile capire cos'è, forse un lampione, forse la luna, non ne sono sicuro, ma non è importante, l'importante è questa atmosfera estremamente evocativa, estremamente magica che viene a crearsi. Molto bello anche l'uso di questa tonalità calda, quindi di questa tonalità molto gialla, molto calda della foto, la rende ancora più piena, più forte, e ricorda proprio un po' il sud, il sud degli Stati Uniti, il grano, quindi sempre associato un po' a quest'idea, questo un po' un cliché forse, però viene subito in mente, pensando al sud, il calore, quindi questa scelta cromatica, secondo me, è molto forte, è molto adatta per queste immagini in particolare. L'ultima foto che volevo farvi vedere fa parte del progetto Battlefields, quindi campi di battaglia, infatti Sally Mann è andata a fotografare i propri campi di battaglia della guerra civile americana, una ferita nella storia americana che è ancora aperta, ancora molto sentita, e lei è andata a fotografare questi luoghi, quindi luoghi del sud, degli Stati Uniti dove lei vive, e li ha fotografati con questa tecnica antica, lei comunque scatta tutto in pellicola, utilizza tecniche antiche con questo caso, quindi con la tecnica del collo di umido, in cui si fanno queste grandi lastre fotografiche, dove spesso si verificano dei difetti, voluti o non voluti, però anche questo è il bello di questa tecnica, e la tecnica applicata a questo tipo di immagine diventa molto forte, io ho scelto questa foto qui proprio perché questi segni, questi segni orizzontali che si sono creati nell'immagine sono fortissimi, cioè aggiungono moltissimo, evocano proprio la presenza di questa batteria, sembrano quasi dei proiettili che stanno volando in questa foresta, a me ha dato proprio questa immagine molto forte, e quindi è incredibile come un dettaglio tecnico, come un dettaglio proprio legato a questa forma di espressione, a questa forma di tecnica fotografica, va ad aggiungere qualcosa in più, trasforma una foto altrimenti magari normale, questo bosco magari è stato fotografato da tante altre persone in maniera assolutamente normale, se l'avessimo, cioè se l'avesse fotografata lei a colori, con una, senza nessuna, nessun'altra tecnica aggiuntiva, sarebbe stata magari una foto molto normale, che non avrebbe evocato nulla, invece in questo modo da proprio una, una forza incredibile, evoca questa, questa potenza, questa battaglia, questo ricordo, ma anche queste ferite ancora aperte nella storia americana. Ecco, vi invito ad andare sul sito internet di Sally Mann per guardare tutte le altre sue fotografie e entrare nel mondo di questa autrice così sensibile e così poetica. Ispiratevi a lei per guardare il mondo che avete attorno con occhi nuovi e magari fotografare i luoghi a cui siete affezionati o la vostra famiglia e i vostri amici in maniera completamente nuova. Vi invito anche al prossimo appuntamento di martedì con il prossimo fotografo o la prossima fotografa sempre qui con The Icons, le foto più iconiche della storia della fotografia. A presto, ciao!